questo brano è particolarmente significativo e l'ho scelto per un motivo ben preciso facciamo un attimo anche di diciamo riassunto della situazione state ascoltando letture metropolitane su radio elettrica io sono flavia capone sarò con voi ancora per un'oretta e qualcosa e adesso voglio parlarvi di una di un documentario che ho visto recentemente che domani da domani da primo dicembre troverete su nexo plus nel frattempo però vi dico perché ho scelto il brano che abbiamo appena ascoltato questo brano è una canzone del inizio 90 1994 ed è una canzone scritta da sandy knox e steve rosen e racconta la storia di una donna morta di aids e perché l'ho scelta per vari motivi intanto perché appunto adesso apriamo una parentesi proprio sul sull'hiv e su questo documentario che tratta di persone si ero positive ma anche perché questa canzone racconta una situazione che poteva essere considerata strana inedita perché le donne non erano considerate dei bersagli tipici dell'aids per una questione di diciamo di pregiudizio di ruolo perché perché l'hiv soprattutto agli inizi quindi diciamo negli anni 80 in particolare era considerato un virus che colpiva soprattutto la comunità gay e quindi anche se non era assolutamente così ovviamente però insomma lo stigma è stato soprattutto lasciato insomma a questa comunità e quindi le donne che invece dovevano essere dovevano comportarsi nel modo migliore possibile e sembravano essere lontane no da questo da questa da questo pericolo in realtà potevano essere colpite come chiunque altro questo poi si è compreso nel tempo una volta che si è conosciuto il virus domani che è appunto primo dicembre sarà la giornata mondiale contro l'aids e saranno anche passati 40 anni da quando è stato scoperto il virus dell'hiv e quindi insomma è una data particolarmente importante proprio il primo dicembre quindi domani uscirà questo documentario che si intitola positive con lo schwa finale 40 anni di hiv in italia un documentario indipendente che appunto trovate su nexo plus e che racconta la storia di quattro protagonisti e protagoniste under 40 completamente diversi l'uno dall'altro e dall'altre che sono sia la positive adesso cioè quindi in questo momento storico il questo documentario è stato realizzato dal regista alessandro redaelli scritto da elena comoglio francesco maddaloni e ruggero melis e oltre diciamo alle storie di questi quattro protagonisti ci sono poi delle interviste a delle persone che hanno avuto a che fare con l'hiv sin dagli anni 80 e quindi ci sono liviero toscani che si è occupato di alcune campagne già insomma tanto tempo fa quando poi è stato appunto scoperto il virus c'è giosquillo l'ordana bertè c'è jonathan bazzi rosaria giardino che è la ragazza che in una fotografia del 1991 compare mentre viene baciata dall immunologo fernando aiuti e una fotografia particolarmente importante storicamente perché appunto l'immunologo voleva dimostrare che lo stigma del non potersi avvicinare a queste persone perché potevano trasmettere il virus anche solo con un contatto ovviamente non era assolutamente reale e quindi grazie a quella foto lui ha voluto lanciare loro hanno voluto lanciare questo messaggio ci sarà c'è anche il l'infettivologo massimo cernuschi del san raffaele di milano che lo studia questa malattia fin dai primi anni di diffusione in italia e è un interessante esperimento questo documentario perché appunto quello che è il l'obiettivo degli autori e del regista non è quello di raccontare in maniera diciamo cupa e anche un po pornografica a livello di dolore le storie di seropositivi appunto come hanno contratto la malattia o come dolorosamente portano avanti le loro vite ma è assolutamente un inno alla vita e un inno alla possibilità di trovare una stabilità pur nella condizione di seropositività ovviamente non si tratta di dire che è tutto facile però si tratta di intanto celebrare quelle che sono le conquiste a livello scientifico che sono state fatte nella lotta a questa malattia perché adesso si può assolutamente sopravvivere però quello che giustamente il uno degli autori Francesco Maddaloni che ho sentito al telefono proprio ieri mi diceva noi volevamo distaccarci da quella che è sempre stata la narrazione di questo di questo virus e della malattia una narrazione sempre basata sulla vergogna sul fatto di nascondere i volti e di modificare le voci e spesso in televisione no è capitato di vedere interviste a queste persone che venivano nascoste no e lui dice non è questo non bisogna viverla in questo modo bisogna sicuramente far passare il messaggio della prevenzione cioè che è un virus che bisogna non prendere però è anche importante raccontare come si vive da persone seropositive e poi un'altra cosa molto interessante che questi quattro protagonisti sono completamente diversi l'uno dall'altro c'è una ragazza transgender che si chiama Daphne e poi c'è un papà eterosessuale una mamma eterosessuale un ragazzo omosessuale quindi tutto lo spettro diciamo della sessualità quasi tutto insomma viene coperto questo per dire che non c'è una categoria che viene colpita di più o che appunto deve essere stigmatizzata ma che è un virus che può assolutamente colpire tutti e quindi questo anche devo dire è una cosa che sappiamo perfettamente ma è importante sottolinearlo parlandone sempre con Francesco Maddaloni lui mi diceva di essere stato sorpreso dal fatto che mentre studiava per questo documentario mentre faceva ricerche si è reso conto che i giovani di adesso i ragazzi i ventenni non hanno la stessa concezione approfondita di questa malattia non ne sanno praticamente nulla cioè sanno che non si muore ma questo gli basta e invece lui giustamente mi diceva noi dobbiamo far capire loro che non devono prenderla che è importante la prevenzione dobbiamo raccontargli che fino a 30 anni fa i loro coetanei non potevano permettersi di essere curati perché fino al 1996 la terapia non era gratuita è stata resa gratuita appunto proprio nel 1996 e quindi poteva costare anche un milione e duecentomila lire al mese che era uno stipendio che un ventenne praticamente non poteva permettersi cioè dovevano chiedere l'elemosina oppure morire questa era l'alternativa e noi dobbiamo raccontare mi diceva Francesco ai giovani questo perché è successo questo perché sono state fatte delle delle scoperte perché adesso si può convivere diciamo con la con la sera positività si può si può farlo però prendendo una terapia tutti i giorni che non è una cosa da nulla insomma e quindi mi ha sembrato molto interessante e gli ho chiesto se poi questo documentario andrà nelle scuole lui mi ha detto che spera di sì e che già qualcosa in atto io spero assolutamente che ci vada perché credo che sia molto molto importante che i giovani abbiano ben chiaro cosa è successo cosa è stato questo virus cosa è tuttora e quello che adesso si può fare vi ricordo il titolo positive 40 anni di hiv in italia lo trovate su nexo plus spero che insomma abbia una circuitazione ampia e che lo possano vedere più persone possibili la fine la scena finale che ovviamente non vi racconto di questo documentario è accompagnata da una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo e che mi dà proprio questa idea di apertura verso verso la vita e di futuro loro sono lì immagine ip con island sick grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti